Rosana Roalè, impassisco per te. Qual è la follia più grande che avete fatto per il Palermo? Andiamola a scoprire. Guardi da Milano a Genova, da solo in macchina. Prendere una mamma quant'acqua che ho preso contro la Roma. Quando ero ragazzo sono andato a vedere la semifinale di Coppa Italia, eravamo poche centinaia di persone con Napoli. Da che ritorno sono 400 chilometri? Catanza è stato, quando c'erano i vecchi paletti, i vecchi paletti di Catanza. La finale di Coppa Italia è poi quasi di tre. E lì addirittura mi sentì male perché al secondo gol di Città io sono stato abbastanza amato. Ogni domenica stavo stato con il Palermo. Sempre ero miglietto in tribuna a caro prezzo. Un totale di 36 ore di viaggio per andare a Roma e ritornare a Roma. Forza Palermo. Grande Palermo. Forza Palermo. Forza Palermo. Forza Palermo sempre. Forza Palermo sempre, però. Dai via.